ACR e Football Club Messina convocati al Comune, c'era la questione nulla osta, fondamentale da risolvere a ormai poche ore dalla scadenza per l'iscrizione al prossimo campionato. Tutto risolto? Tutto risolto nel senso che la modulistica che la Lega richiede per l'iscrizione al campionato prevede la firma di un nulla osta da chi è o proprietario dell'impianto o gestore dell'impianto. Noi così come abbiamo fatto l'anno scorso abbiamo presentato al Comune la richiesta di nulla osta in quanto proprietario dell'impianto. Il segretario generale, la dottoressa Caruba, ha eccepito che in questo momento sussiste una delibera che concede l'impianto San Filippo all'ACR. Per quanto sia in atto una procedura di revoca che ancora non si è conclusa, quindi adesso in questo momento formalmente il concessionario è ACR e quindi in questo momento è ACR a dover consentire l'utilizzazione dell'impianto all'FC per l'iscrizione al campionato. Il Presidente Sciotto ci ha dato disponibilità sotto questo profilo per cui abbiamo risolto serenamente tra di noi questa vicenda e quindi adesso procederemo con l'iscrizione utilizzando questo documento. Voi avevate chiesto il rinnovo del Celeste ma non avete nascosto l'interesse magari anche al Franco Scoglio. Cosa accadrà? Questo è un altro tema, oggi non era l'ordine del giorno, oggi si parlava soltanto della possibilità di ottenere nulla osta per l'iscrizione al campionato. I temi legati alla gestione degli impianti, quindi al San Filippo, revoca o non revoca dell'impianto, al Celeste, queste sono tematiche di cui ci occuperemo in un altro momento, in un'altra sera. Ieri avete annunciato anche il vostro impegno con la Scuola Calcio in sede con delle nuove figure, ci illustra un po' questo progetto? È un progetto al quale teniamo molto perché abbiamo stretto questo rapporto con queste persone che già da anni, Fortunato D'Arrigo e Maurizio Saboroso, già da anni gestiscono l'attività di Scuola Calcio a Messina. Questo è un progetto al quale teniamo perché crediamo nella possibilità dello sport, i ragazzi possano essere occupati in questa attività, quindi abbiamo deciso di investire in questo settore, in questo campo, con queste persone. Siamo molto contenti e fieri di averlo fatto. Grazie. Grazie. Grazie.